Una passeggiata tra le vie della città per conoscere e imparare a rapportarsi con i cani. Il Centro Educativo Tandem insieme alle cooperative Eureka e Oltere hanno organizzato oggi pomeriggio un momento di socializzazione tra ragazzi e animali per esercitarsi nell'arte della comunicazione uomo-cane, per cominciare ad assumersi responsabilità e per capire come comportarsi alla presenza di un amico a quattro zampe. Abbiamo organizzato questo evento per permettere ai ragazzi proprietari di cane di avere qualche nozione sulla giusta e sulla corretta gestione del proprio animale domestico, mentre i ragazzi senza cane avranno invece l'opportunità di socializzare con alcuni cani nostri di proprietà e avere anche lì qualche nozione soprattutto sull'approccio di un cane non di proprietà, quindi che si incontra per strada e per fare questi incontri in sicurezza ed evitare così incidenti sgradevoli. Un'ottantina di teenagers hanno preso parte all'iniziativa, coordinata da educatori e veterinari. Attraverso il cane possiamo sviluppare e tirare fuori tutte le migliori capacità del ragazzo, dalle attività motore, alle attività ricreative, all'accettazione del diverso e quindi in un'ottica di miglioramento della capacità della vita del ragazzo. Quanto può responsabilizzare avere un cane per un ragazzo? Beh sicuramente tantissimo perché il cane intanto non è giudicante e ti accetta come sei. E col cane puoi crescere rispettando le sue esigenze e interagendo con lui liberamente senza nessun condizionamento come può succedere con le persone. Tu hai solo 13 anni e già ti prendi cura di un cane, tu consiglieresti questa scelta a un tuo coetaneo? Sì, io consiglierei di prendere un cane perché ti fa compagnia e è un amico di cui ti puoi fidare. Ti piacerebbe avere un cane? Sì, perché mi piace come animale e perché mi piacerebbe giocarci. Non ti spaventa un po' l'idea che devi accompagnarlo fuori quasi tutti i giorni per più volte al giorno? No, perché non è tanto impegnativo, basta averne voglia.